Eccomi qua, anch'io come tutti i miei colleghi festeggio la 3005, devo dire che per me è un grande onore perché sono entrata a far parte di questo cast fantastico nel 2003, siamo nel 2012 quindi come dire per me è stata ed è tuttora una bella avventura, ricca di emozioni, di divertimento, anche di grande sacrificio, però sono molto contenta. Gli ascolti vanno benissimo, la serie è fantastica, io sono molto, molto, molto innamorata di Posto al Sole e quindi festeggio insieme a voi la prima di cibo, ciao!